Zeus di Smirne 250 d.C. Museo del Louvre, Parigi Zeus per gli antichi greci era il re degli dèi dell'Olimpo. In base a quello che ci dice la mitologia su di lui, era pronto a fulminare tutti i suoi nemici. O chi lo indispettiva con i suoi fulmini, in base a quello che ci dice la mitologia, ebbe numerosi figli, perché era solito tradire la moglie, grazie ai suoi travestimenti e trasformazioni. Degli uomini aveva sicuramente preso molti difetti. È una divinità antropomorfa, cioè che ha la forma di un essere umano. La figura equivalente a Zeus nella mitologia romana era Giove, mentre in quella etrusca era il Diotinia. Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia. Le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia, o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.